c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo bentornati bentornati a questa puntata di risolto giallo che comincia con questa polverina magica ci sarà un effetto dalla regia ovviamente la sorgato si è trasformata non in trilli ma in una magamago perché oggi c'entra intanto un saluto al nostro nick buonasera a tutti però non sono non sono l'ospite io questa sera anche se mi ha presentato così con con questa gentilezza non sono io l'ospite ma ma wow sono marco bellomi sono l'autore di quella cosa eccola qua eccola qua voi non so se la vediate bene perché è una di quelle copertine che entrano piano piano abbiamo su un fondo noir una bella luna rossa su cui si staglia un castelletto dove siamo dove siamo è bella domanda perché siamo benissimo siamo in diversi posti siamo in lombardia siamo in liguria sicuramente in posti specifici della liguria in particolare della liguria posti di cui sono particolarmente legato stiamo parlando di genova ma soprattutto dolbenga e zuccarello zuccarello in provincia di savona conosci mazzavillani zuccarello anche albenga albenga forse sono passato una volta ma zucca no zuccarello ma io ci sono ci sono stata e che ricordi hai di zuccarello di zuccarello lui marco lo sa io ci ho trascorso le vacanze dai venti vent'anni dai vent'anni ai 27 sì più o meno perché il mio fidanzato dell'epoca dell'università aveva i genitori di albenga e quindi ho ritrovato molti luoghi che conosco zuccarello ci sono sicuramente stata ma non erano i luoghi di cui parla lui perché lui ha luoghi legati a omicidi dove passa l'assorgato si scappa il morto poi dopo si scappa quantomeno sulla carta il morto marco tu sai che questa è una trasmissione tutta esclusivamente dedicata al tipo di letteratura gialla noir thriller questi ultimi episodi poi anche un po horror e ma lui è qui mica per caso però noi siamo molto rispettosi del vostro lavoro sappiamo quanto sia importante la suspense il mistero il non svelare più di quanto si possa e quindi ti facciamo autogestire quello che si può e che tu vuoi raccontare del tuo libro sì allora il libro un po complesso nel senso che costruito come una scatola cinese come una batteriosca no e quindi ci sono diversi episodi diverse vicende che si che si intrecciano anche a livello temporale diverso però possiamo sicuramente dire che due vicende principali che sono in seguito a due eventi storici eventi storici eventi quindi c'è un continuo flashback poi ritorno ai giorni nostri esattamente ma dicevo di queste due vicende fondamentali una una nasce una nasce in cina addirittura ok big pharma insieme a organizzazioni criminali cinesi vogliono introdurre dei farmaci legali in cina ma illegali in europa in occidente e vogliono introdurre in italia e questo è un filone l'altro filone puramente inventato un fatto di cronica inventata al benga vengono trovati sette immigrati uccisi ma decollati decollati tipo aerei no mazzavillani infatti decollati sì esatto ok quindi in quel senso fate un applauso da casa mazzavillani purtroppo purtroppo nell'altro senso nell'altro senso e come queste due vicende si intrecciano perché queste due vicende si intrecceranno a un certo punto e grazie al al vissuto di tre quattro personaggi principali e questo diciamo è lo schema entro cui si muove principali quindi abbiamo i sette decollati quindi parti già parte parte basso no marco sette cadaveri subito lì così ma non solo poi di reati se ne commettono anche degli altri non vi diciamo altro perché perché marco non vuole però adesso io sento che mazzavillani è lì che c'ha il friccicore di sapere come mai la scelta di voler avvicinati la scelta di voler utilizzare tre personaggi principali e non solo uno tendenzialmente noi abbiamo avuto anche noi diversi scrittori che non utilizzavano solamente un personaggio un ispettore un giornalista o o qualche squinzia come diceva varalli perché magari c'è riprendono un po' tanti aspetti di personalità quindi la scelta di voler introdurre più personaggi principali perché questo è un po' quello più arguto questo è quello magari che ha l'intuizione dell'ultimo minuto cioè come mai la scelta di trato che tre personaggi sono si può si può dire sono tutte tre assolutamente sì allora ovviamente ci sono più di questi tre personaggi mi piace il microfono sono più di questi di tre personaggi sono chiaramente funzionali alla storia ma sono paradigmatici di tre figure di personaggi infatti uno di questi è un giornalista scrittore che si occupa di arte un curatore d'arte eccetera un altro protagonista è un collezionista di fama internazionale anche esso e il terzo personaggio è è un artista dicevo paradigmatici perché guarda caso sono le tre figure che oggi nell'arte contemporanea costituiscono il sistema dell'arte sistema dell'arte che ho voluto un po' descrivere indagare in una maniera un po' insolita costruendoci intorno una storia fantasiosa è un mondo che tu conosci è un mondo che conosco appassionato d'arte vengo io stesso sono stato per anni anche un po' artista così ho curato delle mostre scrivo degli articoli di critica dei comunicati stampa insomma qualcosa bazzichi bazzichi a livello proprio di passione e ripeto questi questi tre personaggi in realtà personaggi queste tre figure come dicevo prima sono il paradigma dell'odierna arte contemporanea vicino a loro ci sono altri personaggi anche alcune donne anche loro spiccatamente tratteggiate sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista del ruolo all'interno della trama però di loro io non ti chiedo alcunché con riferimento alla narrazione mi domandavo invece se qualcuna di loro esista veramente perché leggendo il tuo libro soprattutto delle due figure di accudimento quindi della barista e della cuoca o comunque della ristoratrice ho trovato dei tratti così affettuosi e così caldi che mi sono detta ma sta a vedere che le conosce veramente non necessariamente messe lì a zuccarello piuttosto che in piazza della repubblica ma magari ha trasposto una sua un dato esperienziale come lo si direbbe se fossimo in una rivista d'arte no direi che sono personaggi inventati sono personaggi inventati però è colto bene la loro dimensione femminile di cura perché entrano nella storia con questa con questa loro caratteristica forte quindi personaggi femminili che in un certo senso curano i personaggi la storia uno in particolare che è un personaggio particolarmente fragile eh però senza entrare nella vita no senza entrare non fanno le le mamme no restano sempre un po' esterno però è vero questo questi questo questa dimensione tipica femminile della cura emerge emerge fuori dopo la prossima domanda di mazza villani allora torniamo sul sul concetto che in america latina si chiama quello della curandera che in qualche modo non a livello geografico non a livello etnico ma ci fa un po' da ponte per svelare il titolo che non abbiamo ancora detto che è lo sciamano nel borgo anzi perdono uno sciamano uno scusate a te e poi tu mentre stavo lottando tra una zanzara e l'altra perché sono veramente tante qua in studio leggevo che questo è il tuo primo romanzo assolutamente sì come mai il mio primo romanzo la scelta poi di comunque tu hai un passato lo hai detto anche adesso comunque nel mondo dell'arte sì e hai leggevo che hai anche ti sei anche avvicinato a scrivere scenografie quindi sceneggiature magari anche scenografie visto che no scenografie anche scenografie ha letto bene ha detto bene sì e questo poi è il tuo questo poi è il tuo il tuo primo romanzo quindi come mai la volontà di volerti lanciare a a a a scrivere che cosa ti ha portato anche a a fare questo sì come giustamente dicevi vengo da tutt'altro tipo di esperienza a livello di scrittura quello che scrivevo o piuttosto di quello di cui mi interessavo guarda caso comunque mi offrivano delle opportunità fantasiose no di argomenti no e non è un caso che hai trattato la scenografia delle scenografie perché ho curato e sto curando tuttora diciamo degli spettacoli uno spettacolo le sto curando un altro successivo spettacolo che è un po' tutto in crescita su David Bowie che in un certo senso soprattutto a un certo punto della sua carriera ha toccato alcuni temi ha toccato alcuni temi molto legati all'arte all'arte estrema frequentando certi tipi di certi argomenti mi sono venute delle idee mi sono venute delle suggestioni e a un certo punto ho detto le metto giù le scrivo questo non è tipicamente il romanzo tipico che avevo nel cassetto perché nel giro di 4-5 mesi lockdown l'ho scritto avevo queste idee che mi frullavano banalmente ho detto provo a metterle giù ma in un primo momento scusami stavo pensando quanto ti dobbiamo lockdown quanti talenti hai fatto emergere lockdown ha fatto emergere un sacco di un sacco di scrittori quando l'hai scritto avevi già l'idea di scrivere un romanzo o magari di scrivere un testo cioè sul momento era l'idea di scrivere un testo teatrale un testo teatrale sì un testo teatrale infatti secondo me si presta anche poi per una trasposizione sì perché le scene sono poche le ambientazioni potrebbero sì cioè un cambio di scena due via sì due cambi di scena io ho una forma mentale legata proprio alle ambientazioni alle abbastanza visuale no? e mi piace il cinema molto mi piacciono molto i fumetti no? e quindi sì sicuramente ho messo questo tipo ho avuto questo tipo di approccio certo sì e torniamo alla nostra curandera non so se qualcuno di voi abbia frequentato quel genere di letteratura tipicamente sudamericana dove la figura della maga della curatrice è però sempre incarnata in una figura femminile è quasi un archetipo non soltanto in quelle zone del mondo ma ovunque in questo caso invece il uno dei tuoi protagonisti dici tu se vuoi dirci quale sia ma io direi di no ha queste doti ha questi insegnamenti che gli pervengono dalla sua famiglia d'origine e mette in pratica tutta una serie di esperienze di tipo magico due domande primo quello che scrivi è realistico verificabile io non ho mai fatto nulla di sciamanesimo non mi sono neanche peritata di andare a verificare se queste erbe esistono stai chiedendo se è andato da uno sciamano no sto chiedendo se sia vero magari lo è lui stesso ma se si sia documentato assolutamente sì documentato sì è tutto vero mi sono sempre un po' interessato di stati alterati di coscienza derivanti da sostanze piuttosto che da piante eccetera sì tutto vero mi sono documentato chiaramente e sono tutti dei procedimenti verificabili sì sì quindi anche quelli di cura assolutamente sì quindi gli impiastri che gli vengono applicati sì anche la bere l'urina dello sciamano che si è mangiato i funghi dicono che la tradizione sciamanica mongola che addirittura si hanno degli effetti raddoppiati o comunque moltiplicati bevendo l'urina di chi ha consumato i funghi la manita muscaria quindi c'è un effetto un effetto benefico cioè il confine poi il confine tra la tossicità ovviamente e l'effetto salutare diciamo della sostanza è molto il confine è labile no e quindi chiaramente devono essere utilizzate queste sostanze da sciamani uomini di medicina tradizionali chi ne sa e chi sa cosa andare a toccare cosa andare a mischiare seconda domanda collegata alla prima qui ci sono dei passaggi delle pagine molto profonde molto molto belle che fanno anche un po' da punteggiatura rispetto a una trama che invece è concitata verso la risoluzione del mistero del delitto e quelle pagine ti dicevo prima sembrano quasi psicoanalitiche anche in questo caso c'è soltanto della documentazione o ti diletti anche di questi approfondimenti no direi che in questo caso anzi anche in questo caso documentazione sì io ho una formazione di tutt'altro genere sono un grafico prestato alla dimensione bancaria lavoro prestato sono un bancario non c'entro nulla con quelle ma in Italia c'è qualcuno che fa che fa qualcosa per cui intanto che fa una sola cosa fa qualcosa per cui ha studiato va bene esatto no però mi piace leggere di psicanalisi eccetera e anche in questo caso ho attinto ho attinto senza cercando cercando ecco di non fuorviare da cose non verificabili piuttosto che e vi garantisco che il risultato è avevo detto che non l'avrei detto invece lo dico questo è uno dei tre libri più originali del 2023 e questo pigliatevelo come consiglio perché per la sorgata che ne macina due o tre alla settimana ormai dirvi una cosa del genere vale vale quello che vale lascia il tempo che trova ma quel tempo è finito quindi andiamo ai saluti andiamo ai saluti io c'ho un'altra domanda da fargli gliela fai la prossima volta perché sta scrivendo ah ecco quindi questa era l'altra domanda sta scrivendo quindi perfetto allora me la tengo per la prossima volta che che verrai Marco però da già risposto si sta scrivendo ma io ne avevo anche un'altra ma gliela farò la prossima volta che bello ormai facciamo le domande nelle risposte esatto bene ben volentieri per una prossima volta chiaramente chiaramente bene ringraziamo il nostro ospite Marco Bellomi e noi ci vediamo ancora un po' di erbette magiche esatto andiamo tutti a Zuccarello pulviscolo atmosferico grazie grazie ciao a tutti grazie grazie a voi soprattutto mi è stato un piacere quanto c'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di Noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo